Come accartucciare le bottiglie di plastica? Come piegarle? Ecco, in questo tutorial di oggi spiegherò pubblicamente come riuscire a compiere l'operazione in questione. Molto semplice, ovviamente bisogna utilizzare entrambe le mani e fare come nel caso di specie. Innanzitutto tolgo il tappo dalla bottiglia di plastica, ovviamente. A questo punto non faccio altro che piegare la parte bassa, partendo quindi dalla base, fino ad arrivare all'apice, come state vedendo ora. Una volta che sono giunto all'apice, quindi dove sta la bocca della bottiglia di plastica, non faccio altro che andarla a richiudere prendendo il tappo che avevo precedentemente levato e andando a rimetterlo proprio dove c'è la bocca della mia bottiglia di plastica. Chiudo fino in fondo del tutto quindi e come vedete ha cartocciato una o più bottiglie di plastica. Chiaramente il procedimento da seguire è sempre lo stesso per tutte le bottiglie di plastica che avete a casa, sia piccole che grandi come questa qua che state vedendo ora. Grazie per la visione, grazie per l'ascolto, un saluto, iscrivetevi e al prossimo tutorial da Leandro, narratore italiano.